E' ancora il Covid a prendersi la scena nel girone F del campionato di Serie D. Ben due infatti le guerre rinviate. Si tratta di Monte Giorgio Nereto e San Benedettese Vasto Girardi per casi di positività registrate all'interno dei gruppi squadra marchigiani. Tra le abruzzesi è il derby chietivastese a catalizzare l'attenzione, match che sarà disputato senza tifosi ospiti su decisione dell'osservatorio, con calcio d'inizio alle ore 15 per permettere i festeggiamenti del centenario in casa Neroverde. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia andrà a far visita alla capolista re canatese il Castelnuovo. Al di là dell'avversario da affrontare comunque Neroverde a caccia di punti per tirarsi fuori quanto prima dalla zona calda. Turno interno per il Pineto, che al Mariani Pavone se la vedrà contro il Fiuggi, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente il posto all'interno dei play-off. Mister Amaolo dovrà rinunciare allo squalificato Bosco. È la gara dei tanti ex notaresco Fano, che andrà in scena al Vincenzo Savini, nutrita la pattuglia in Casa Rosso Blu con il direttore generale Bernardini, il tecnico Epifani ed il suo vice Romandini, oltre ai giocatori scimia ed esposito, con quest'ultimo che ha iniziato proprio in Granata la corrente stagione e pronto a rientro dopo l'attacco influenzale che gli ha fatto saltare la gara di Vasto. Al di là degli ex, si tratta di una sfida importante per il notaresco che cerca il ritorno alla vittoria per risalire posizione in classifica.